Due belle camere da letto, sala, cucina abitabile, un balcone che gira completamente tutto attorno a casa, in una palazzina piccola, appartamento completamente ristrutturato... Beh, che cosa aspetti a venirlo a vedere? Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in Borgo, in una traversa di via Fornarina e qui si trova questo appartamento in una palazzina di solo 6 unità, al secondo piano rialzato ed ultimo, con ingresso, soggiorno e cucina separata, un bel balcone dove mi trovo ora che corre lungo tutto l'appartamento, due camere da letto e bagno finestrato, cantina e garage al piano seminterrato. L'appartamento in un'appartamento in un'appartamento in un'appartamento, è stato completamente ristrutturato circa vent'anni fa, quando è stato acquistato, quindi sono stati cambiati gli impianti, i pavimenti, gli infissi sono molto recenti con i vetri camera, abbiamo le tende parasole, abbiamo anche due condizionatori, uno nella zona giorno e uno nella zona notte. L'appartamento in un'appartamento in un'appartamento, è sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!